Aperte le agende per la somministrazione della terza dose di vaccino anti-covid per gli adolescenti di 16 e 17 anni e per le fasce di età 12-15 anni. Per questi ultimi, limitatamente ai soggetti considerati fragili per patologie pregresse e che dunque potrebbero amplificare i pericoli di sviluppare la malattia in forma severa in caso di infezione. La terza dose potrà essere fatta una volta trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario e sarà somministrato esclusivamente Pfizer. La prenotazione può avvenire tramite il portale regionale per gli utenti tra i 12 e i 15 anni e prevista l'autocertificazione della propria condizione di fragilità.